BABY I'M SO SORRY NEL MIGI YEH KEEPIN' DIAFURI NEL MIGI YEH NO YOU'RE DIMO Ciao a tutti sono Lelli e adesso farò la reaction degli Stray Kids di StrayK9 Madonna non vedo l'ora voi non capite Oddio Perché I'M NOT I'M NOT Il trailer è stata una cosa bellissima Oddio Oddio ma io devo abbassare C'è Joe Whippy che ci odia quegli Stray Kids Oddio Cosa? Nino che rappa all'inizio Oddio Oddio Eugene Oddio E' STRABELLO Oddio Zagmin Oddio Zagmin Oddio 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 Elena Madonna, Felix, no! È bellissimo, giuro, mi piace troppo poi il concerto, è una figata allucinante. Oddio, ma questo è bello, Nino! Oggi sono... Comunque, io l'ho sempre detto. Sì, ma stai calmo! Madonna, Cianna, è stupendo. Io l'ho sempre detto che gli Strikiz hanno alcuni dei rap migliori, in assoluto. Anche se hanno appena debutato, non mi interessa, hanno dei rap bellissimi, cioè, hanno un fiato allucinante. Madonna, Felix, mi sta facendo malissimo, Dio! Ma tutti, giuro, tutti! What? Non ho capito come sono passati! Oddio! Madonna, basta! Con quei capelli poi, ma no! Madonna, Cianna, basta! Oddio, sì! Gisori! Hanno dei ritornelli troppo, giuro, è bellissimo! Allora, se mi date il meno, Cianbin, vivo meglio! Madonna, Wajin! Vai, Wajin! E la voce di Felix, non ce la posso fare, no, veramente, non ce la posso fare con la sua voce! Wow, che figata! Questa scena è stupenda, con l'acqua, comunque! Madonna, giuro che è Wajin! 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 Cioè, la canzone è stupenda, il ballo è stupendo, come sono vestiti, tutto il rap, perché, davvero, cioè, hanno anche di evoca stupendi, ma il rap di Mr. Kids, per me, veramente, è a livelli assurdi, per aver appena debutato, è a livelli assurdi proprio! E, anzi, non so neanche se hanno ancora debuttato, perché, in poco fa, c'era ancora scritto pre-debut, quindi non ne ho idea! Comunque, mi è piaciuta tantissimo, quindi, niente, in caso scrivete nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima reazione, ciao!